musica Sono Giuseppe Itri, chef patrone del The Tooting Italian, Tooting Broadway London Il ristorante è appena aperto da un anno, è il mio secondo ristorante Prima del The Tooting Italian ho avuto un ristorante in società con un mio vicino di casa Il quale ho venduto la mia parte Un ristorante italiano a Londra rappresenta ovviamente l'Italia Cerchiamo di proporre più che mai prodotti italiani Che ovviamente vengono importati da diverse persone e quindi da diverse zone e regioni dell'Italia Quindi in questo ristorante cerchiamo di fare una cucina più regionale possibile La clientela è abbastanza giovane Più che altro gente che viaggia e conosce, è venuta a conoscenza di certi prodotti italiani Direi più che altro è una clientela che va dai 25 ai 35 anni Essenzialmente credo che oggi come oggi la clientela, quella giovane specialmente Non voglia andare in un ristorante e pagare per una grande cena Penso che i ragazzi oggi come oggi vogliano più provare diversi piatti E abbinare magari dei vini, abbinare delle birre artigianali E magari abbinare dei cocktail innovativi Ristorante italiano con un twist Nel senso che non è più il ristorante italiano dove vai a mangiare 5 portate Ma è un ristorante dove vai e provi diverse cose È una specie di tapas bar